C'è un'altra macchina che c'era l'incidente questa sera l'1 di 7 gennaio intorno alle 18 Cornier in località Piova. Un 27enne di Cornier ha perso il controllo della vettura un Alfa Romeo che si è scontrata con una Hyundai Santa Fe con a bordo un 66enne di Strambinello la quale stava uscendo da una via secondaria e dall'impatto è finita contro un muretto di cemento. Sul posto sono prontamente intervenuti l'ambulanza della Croce Bianca del Canavese, i carabinieri di Cornier e il nucleo radiomobile di Ivrea. I due conducenti feriti in modo non grave sono stati trasportati all'ospedale di Cornier per accertamenti. C'è un'altra macchina di Cornier. C'è un'altra macchina di Cornier.